Alla richiesta dei poliziotti della Polfer di Reggio Calabria di esibire un documento di identità, un cittadino del Ghana di 37 anni in Italia dal 2006 ha reagito come se si trovasse su un ring, come se fosse un boxer alle prese con un incontro di pugilato, sbraitando, agitando le braccia, mostrando i pugni, avanzando ed arretrando con movimenti agili e veloci. Quando l'uomo si è poi impossessato di uno scopettone, travolgendo l'addetto alle pulizie che tentava di recuperare l'attrezzo, sono intervenuti i poliziotti venendo a loro volta trascinati per terra e rimanendo feriti nella colluttazione. L'uomo è stato bloccato e l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto sottoponendo lo straniero all'obbligo di firma.